ciao a tutti volevo solo farvi vedere come staccare i fiori alle saracenie questa è la saracenia stevensy i fiori qua sono alti più o meno tre centimetri ecco basta fare questo lavoretto qua uno qua e qui c'è un altro qua dietro fatto rapido indolore qui ce n'è anche un altro l'eucufilla lo aspetto ancora un attimo perché mi sembra ancora un po troppo basso magari fra due giorni